Sì, io sono d'accordo, credo al tempo stesso che dobbiamo aver ben chiaro quello che è il termine di confronto. Il confronto ahimè non è tra il costo che abbiamo visto e il magico mondo in cui saremmo cresciuti al 5% ma anche al 3% del PIL. Il confronto è tra il costo delle sanzioni e il modo in cui, poi magari andremo a parlare sul tema pagamento in rubli che quindi non si può fare e quindi interruzione dei flussi energetici. Comunque il costo di sanzioni annesse e connessi e il costo economico del non fermare Putin. Quindi diciamo il costo economico di non fermare Putin è uno scenario catastrofico da terza guerra mondiale nucleare. Cioè il costo economico non solo ovviamente diciamo umanitario ma il costo economico è devastante. Quindi purtroppo il paradigma non è più il paradigma di un dopoguerra ma il paradigma di un pre-guerra che dobbiamo cercare di evitare con anche appunto tutte le sue ripercussioni economiche.